Eccoci, buongiorno a tutti, sono praticamente l'ultimo ostacolo al pranzo e peraltro, penultimo, peraltro parlare dopo il notaio di Rizzi è un'impresa davvero complicata, però davvero cercherò di accelerare i tempi in maniera molto molto efficace, cercando però allo stesso tempo di non perdere il concetto di quello che vorrei far passare. Vi parlerò di controllo di gestione negli studi notarili e devo dire tocca tanti aspetti che ho sentito nell'arco della mattinata, quindi troverete molti allineamenti sul concetto discusso nell'arco della giornata. È un argomento peraltro molto attuale, noi negli ultimi due anni abbiamo ricevuto tantissimi stimoli dai notai sul tema del controllo nel 2020 per fronteggiare la contrazione, nel 2021 per sostenere la ripresa, quindi un argomento davvero molto attuale. I notai sono chiamati ad affiancare alla consolidata eccellenza di giurista e di funzione notarile anche una nuova attività che è quella di gestione di uno studio complesso e quindi dotarsi anche di strumenti per dominare una complessità crescente che è quella all'interno degli studi notarili. La cosa ha anche un legame con il cambiamento, si è parlato anche stamattina, ho sentito evocare più volte il concetto del cambiamento, è vero, è cambiata la società, è cambiato il contesto di lavoro, è cambiato il vostro cliente medio, cioè è cambiato il cliente del notaio, un cliente sempre più esigente, informato, o quantomeno con la prosunzione di esserlo. Le responsabilità dei notai sono sempre più gravose, le scadenze, quindi è un contesto davvero sempre più complesso, però è anche vero che siamo dinanzi a delle ottime opportunità, quindi adeguarsi, farsi trovare pronti e preparati a sfruttare le opportunità è anche il giusto modo per salire sul treno delle opportunità. È stato evocato anche negli interventi precedenti, siamo alle porte del recovery plan, la PNRR, stiamo parlando di 250 miliardi che arriveranno sul mercato, ovvero il ruolo del notaio come ruolo di vicinanza all'istituzione, un ruolo cruciale anche nella gestione di queste opportunità. Qui vorrei riassumere brevemente alcune parole chiavi, quelle che nel marketing vengono definiti touch point, le parole chiavi che abbiamo ascoltato negli ultimi tempi dei nostri clienti, cioè i bisogni che ci hanno manifestato, che hanno a che fare con la necessità di misurare ma misurare in maniera scientifica la marginalità, di controllare e dominare i costi ma diretti e indiretti, una gestione come dire oculata sul monitoraggio del fatturato, non sul totale ma un'analisi qualitativa di quello che c'è dentro. Quello che è un tema delicato per tanti studi, i crediti, gli insoluti, avere anche qui della focalizzazione, per non dimenticare un aspetto sempre più complesso, anche questo nelle gestioni degli studi, il personale, la gestione delle risorse umane, collaboratori, aggiungo un collaboratore, che impatto di costi ha, che opportunità devo avere, come mettere in equilibrio questa gestione, oltre come direi Timi, che è il goal finale, la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti. Vado ora al cuore dell'argomento perché su queste assunzioni noi abbiamo costruito e sviluppato un prodotto, un software, un software di controllo di gestione. Una cosa molto importante da premettere è che è un software che non richiede imputazioni di altri dati, il software va a leggere la miniera di informazioni che oggi sono esistenti nello studio del notaio, nei gestionali del notaio, quindi il repertorio, la fatturazione, l'agenda, le pratiche, la contabilità, cioè dati già esistenti, solo che passiamo da dati grezzi a dati, concetto dei big data, a dati intelligenti, che facciamo ritornare al notaio sotto forma di informazioni. Quindi il notaio velocemente potrà consultare, questo è una delle tante dashboard che mettiamo a disposizione, è il cruscotto principale, dove il notaio può vedere il numero di atti che ha fatto nel periodo di riferimento e contestualmente vedere lo scostamento rispetto all'anno precedente, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I compensi, compensi del periodo e lo scostamento rispetto all'anno precedente. Poter velocemente vedere a colpo d'occhio i sospisi, sia in termini di compensi e sia di anticipazioni, poi posso entrare nel dettaglio e vedere la singola posizione. Aspetto molto importante, molto spesso trascurato, quante prestazioni non ho fatturato, per le quali non ho fatto né pro forma né fattura. Il fascicolo è in un posto diverso, sbagliato da dove deve essere. Tantissime casistiche escono fuori in queste analisi di dettaglio. Poter avere a colpo d'occhio, anche per uno studio associato, qual è la performance dei singoli notai in associazione, qual è il fatturato di ciascuno di essi, la performance e la differenza allo scostamento rispetto all'anno precedente. A colpo d'occhio la marginalità, su cui poi ritornerò in maniera un po' più precisa, quindi costi e marginalità, come è spaccato il volume d'affari dello studio tra le diverse nature, immobiliari, mortiscausa, società eccetera, e anche qui fare delle riflessioni. Questa è una, come vedete, delle tante reportistiche, tante dashboard che vengono messe a disposizione per andare ancora più in profondità, dove posso andare a vedere il dato dello stipulato in determinato periodo, sente conservato, rilasciato con lo scostamento all'anno precedente. Cosa molto importante, sentite da tanti notai, qual è il coefficiente di moltiplicazione rispetto all'onorario al repertorio? Sul totale, piuttosto che andare ancora più in profondità e quindi vederlo per un periodo, un anno in particolare, un mese, un notaio in caso di studio associato, una sede, lì dove ci sono più sedi, una certa tipologia di atti, cioè fare delle analisi qualitative e vedere quel coefficiente, non sul totale, ma andando in profondità. Quali sono i migliori clienti dello studio notarile? Per numero di atti o per valore di fatturato? E su un cliente o su più clienti poter fare un'analisi di fatturato, numero di atti, sospesi, marginalità che quel tipo di prestazione di clienti o di gruppo di clienti porta allo studio. Qui mi soffermo qualche secondo in più che è il tema della marginalità. Qual è la marginalità dello studio notarile? È l'elemento cruciale che si riga a molti ragionamenti che abbiamo fatto, sono stati fatti oggi. In questa schermata il notaio può vedere sul suo volume di affari qual è il valore reale dell'utile del suo studio, il margine del suo studio. Nella seconda casella posso vedere qual è il prezzo medio, la marginalità media per atto, cioè il notaio, e qui vi posso assicurare abbiamo trovato tantissima sospesa in tanti clienti, il notaio vede che il suo volume di affari, e questo è un database verosimile, per ciascun atto guadagna 391 euro. È un parametro importantissimo per capire se devo fare uno sconto su un preventivo perché molto spesso i notari quando vedono questo dato pensavano a margini, a cifre decisamente diverse da quelle che poi invece sono nella realtà. Qui poi sarebbe da aprire ma non c'è né tempo né luogo un concetto del premium price dell'atto notarile, un ragionamento come dire di marketing e di economia. Posso entrare più nel dettaglio? qual è la marginalità per ciascuna categoria? O addirittura vedere qual è il volume d'affari e la relativa marginalità su tutte le tipologie, sui dati dello studio, cioè dati reali con tutto il conteggio dei costi diretti e indiretti e quindi rendermi conto, notaio nella specie, che ho 500.000 euro di valore sull'immobiliare con 70% ma ho delle natura in perdita, cioè su alcuni atti lavoro in perdita, ci rimetto dei soldi, più atti faccio e più ci rimetto. Posso vedere qual è la situazione dei costi, quali sono i costi in questo periodo di riferimento, qual è lo scostamento rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo dell'anno precedente avevo meno costi o più costi. Quali sono, quali costi e con quale percentuale concorrono al totale? Costo del personale, costi di studi, contribuzione al notariato, visure e tutte le tipologie di costi relativi. Posso vedere la produttività del mio studio, dei collaboratori dello studio, questi sono i nomi dei collaboratori dello studio, posso vedere ciascuno dei collaboratori quanti atti ha fatto in un certo periodo come numero, quanto valore quegli atti hanno prodotto in un determinato periodo. Misurare e capire dove ci possono essere opportunità di efficienze. E concludo con un aspetto molto importante sul tema della qualità organizzativa dello studio. Ponendo una domanda, quali sono i tempi medi con cui uno studio notarile, il vostro studio è in grado di erogare, di chiudere la pratica, di erogare l'adempimento unico, che è un dato di qualità di servizio al cliente? Qui lo troviamo immediatamente. Questo studio, ripeto un database verosimile, questo studio evade l'adempimento unico, registra il tutto in 2.7 giorni. Lavorativi. Posso darmi degli obiettivi, posso dire il prossimo anno voglio fare 2.5 e do degli obiettivi anche al personale. Posso vedere il ranking, posso vedere quali sono gli atti che sono andati fuori media. Perché? Perché c'è stata un'efficienza del personale o perché erano atti particolarmente complessi. Quindi posso misurare e migliorare la performance. Cercato di essere velocissimo rispetto ai temi che richiedevano più tempo, concludo dicendo che tutte queste informazioni, ripeto, non sono da imputare manualmente, sono informazioni che già lo studio notarile ha in pancia nel gestionale. Quindi quello che normalmente fa, solo che oggi vengono indicizzati e letti in maniera intelligente con sistemi di intelligenza artificiale che poi producono questo risultato qui. Il sistema poi è fruibile da qualsiasi dispositivo, Windows, Mac, compreso il cellulare. Quindi anche in mobilità posso scorrere queste dashboard che avete visto ed entrare nel dettaglio. Grazie ancora e ringrazio in chiusura il Presidente Notaio Liotta e tutta la Giunta di Federnotai di questa opportunità. Siamo alle battute finali. Luca Soro di Aon. Pensa a uno strumento in grado di orientare le tue scelte, di rendere più facili e rapide le decisioni strategiche, di rivelarti in un colpo d'occhio tutte le informazioni che ti servono per aumentare il tuo margine, pianificare progetti di crescita, potenziando così la reputazione del tuo studio notarile. Anche noi di OA Sistemi lo abbiamo pensato. Proprio per i notai come te. Si chiama ADG e sta per Analyze the Site Group. ADG rappresenta il meglio della business intelligence applicata alla funzione notarile. Non ti servono investimenti tecnologici. ADG dialoga con il tuo gestionale OA Sistemi. Acquisisce in automatico i tuoi dati, che potrai consultare in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo, e li trasforma in grafici di immediata comprensione. Con ADG potrai navigare nelle informazioni, correlare i dati tra di loro, filtrarli per territorio, per tipologia di atto, per settore, analizzarli per intervalli di tempo. Pensa come sarà più semplice rendere più efficiente il tuo lavoro e più distinta la tua funzione, migliorare l'approccio a tematiche complesse, scegliere su quale attività concentrare le tue risorse, ottimizzare tempi e costi di gestione, pianificando così la tua crescita in modo sicuro e intelligente. Bene, ora non pensarci più. ADG è arrivato.